pronti? via! che ci fai quassù? che bel tramonto! il tempismo è importante! che sapori hanno i goomba? ce la fai ad arrivare laggiù? che sollievo! grazie! grazie! comodo quel nasone! da dove salti fuori? impressionante! ce la puoi fare! che bella giornata! ehi! ciao! wow! cos'è quello? ciao ciao! quello sì che era bizzarro! respiri profondi? ce l'hai fatta! sbalorditivo! ah! fortuna vuole non sono un goomba! wow! non dovete farvi vedere da loro! quel goomba sembra così! beh ecco! ciao! ciao!